Un disagio enorme, oggi si scopre che quei contenevano rifiuti speciali non dichiarati, che non erano adeguati al trasporto di quei rifiuti, per cui quei valogoni non dovevano rimanere nella stazione di San Giovanni Valdarno, vicino a delle abitazioni dovevano necessariamente ripartire. Il caso era scoppiato nei primi giorni di agosto, quando alla stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarno era stato fermato un convoglio di rifiuti speciali proveniente dalla Campania e diretto in Austria, che aveva registrato sversamenti di liquidi e generato un odore nauseabundo ed insopportabile per i residenti. Furono dei giorni difficili perché non è stato facile farli spostare, farli tornare presso il luogo dal quale erano provenuti. In dei momenti ci sembrò che non fosse veramente possibile risolvere questa situazione. Poi c'è stato un lavoro in sinergia della Procura della Repubblica di Arezzo, dei Carabinieri, di ARPAT, dell'ASL, anche di RFI, e finalmente il giovedì pomeriggio 4 agosto i vagoni ripartirono verso la destinazione da cui erano originariamente partiti. Adesso le analisi sul contenuto effettuate per conto della Procura di Arezzo rivelano che i 32 container contenevano rifiuti pericolosi e non stabilizzati, non idonei al trasporto né smaltibili in discarica per l'elevata concentrazione di metalli pesanti. Il Comune di San Giovanni Valdarno così sta valutando la possibilità di richiedere i danni. Stiamo valutando questa possibilità, naturalmente la dobbiamo valutare in termini formali, ci rivolgeremo a un avvocato per capire questo. Naturalmente, immediatamente all'accaduto l'ufficio ambiente ha emesso due ordinanze, una nei riguardi di RFI e l'altra nei riguardi della società che aveva l'incario di trasportare questi rifiuti per ripulire le rotaie della stazione e l'ordinanza fu immediatamente eseguita. Però ecco, ora stiamo valutando la possibilità veramente di richiedere i danni.